Drammatico schianto nella notte un giovane Mario Caracuta di 33 anni residente in città ha perso la vita mentre era alla guida della sua auto tra via Alessandro del Borro e via Le Luigi Cittadini ad Arezzo lungo la ferrovia. Il 33enne ha sbattuto contro un camion vela un violentissimo impatto. L'incidente è avvenuto secondo le prime ricostruzioni poco dopo l'una nella notte di domenica 9 gennaio. L'auto avrebbe perso aderenza sull'asfalto andando così ad impattare violentemente contro il retro del camion vela parcheggiato a bordo strada. Erano due mezzi posteggiati l'uno davanti all'altro. L'auto del 33enne ha colpito il primo e a causa del violento impatto il camion ed è andato a colpire l'altro mezzo parcheggiato poco più avanti. Ad accorgersi dello schianto e dare l'allarme è stato un vigilante che ha chiamato i soccorsi. Allora arrivo i sanitari del 118 sul posto con un'ambulanza hanno potuto unicamente constatare il decesso del 33enne. Al lavoro anche i vigili del fuoco di Arezzo fino alle 3.45 per liberare il corpo della vittima dalle lamiere. Sul posto anche la polizia stradale per i rilievi e carabinieri di Arezzo.